E infine una cosa assolutamente importante, chiusura immediata di Equitalia. Non ho conosciuto ancora un italiano che si sia seduto a un tavolo con un funzionario di Equitalia e che si sia alzato da questo tavolo ritenendo di essersi trovato di fronte a uno Stato giusto e amico. Tutti si sono alzati da quel tavolo avendo la forte impressione di essersi trovati di fronte a uno Stato ingiusto, ostile, addirittura nemico.